Sarebbe il braccio destro del boss Giuseppe Garozzo, detto Pippu Maritatu, ed ha beni a lui riconducibili che superano i 100.000 euro. La squadra mobile di Catania ha posto i sigilli a ristoranti, auto, ville e bloccato ai conti correnti di Antonino Arena, 42 anni ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della cosca dei Cursoti. Arena, pregiudicato e già in carcere perché è coinvolto in un'operazione messa a segno dalle forze dell'ordine nel 2012 contro il traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti. L'operazione fu messa a segno nel maggio del 2012 e finirono in manette 20 persone. Per loro l'accusa era anche di associazione per delinquere di stampo mafioso e distorsione. Tra i beni sequestrati c'è un'importante trattoria di via plebiscito chiamata Torre del Vescovo, nella zona Nuovo Corso dalla quale ha preso il nome l'operazione del 2012. Sequestrati anche un immobile intestato ad Arena e alla moglie due automobili e uno scooter. Grazie a tutti!